Mmm… se io do una calcolatrice a un matematico, lo chiudo in una scatola e poi non lo guardo, quello è un computer quantistico? Ciao ragazzi, io sono Marco per gli amici il Cuso e benvenuti alla seconda puntata di quantum computing, ovvero come i computer quantistici rivoluzioneranno il nostro modo di fare 1 più 1. In questa seconda puntata parliamo di qubit, ossia quantum bit, l'equivalente quantistico dei bit classici. I primi qubit sono stati costruiti credo negli anni 80 e da allora si è cercato di trovare il sistema più adatto per il cosiddetto scale up, il passaggio da un singolo qubit che è relativamente facile da creare, a un computer che possa gestire molti qubit contemporaneamente. Si è provato con atomi, molecole, quantum dots, fotoni intrappolati in camere risonanti, ma ad oggi non c'è un'idea chiara su come sarà fatto il qubit del futuro. I qubit sono molto diversi dai bit tradizionali, ma in una cosa sono uguali. Quando noi misuriamo un qubit, quando guardiamo quanto vale, i risultati possono essere soltanto 2. O vale 0, o vale 1. O meglio, si può trovare solamente in due stati, quello fondamentale e quello è citato, e noi li chiamiamo 0 e 1. Ma questo significa che il computer quantistico, di fondo, è ancora un computer binario, anche se con le dovute differenze. La prima grande differenza tra i bit classici e i qubit è la possibilità per questi ultimi di trovarsi in una condizione particolare nota come sovrapposizione coerente di stati. Probabilmente avrete già sentito questa espressione, ma se ancora non vi siete fatti una idea mentale chiara di cosa sia un sistema in una sovrapposizione coerente di stati, sappiate che siete in ottima compagnia perché nessuno ha una chiara idea mentale, nessuno ha mai trovato un'immagine, un esempio che renda chiaro, lampante, che cosa significhi essere in una sovrapposizione coerente di stati. Perché si tratta di una condizione così aliena alla nostra vita di tutti i giorni che quando proviamo ad applicare questo concetto a oggetti grandi, tipo i gatti del famoso esperimento di Schrödinger, le conclusioni che ne traiamo sono quantomeno… eh. Però nel mondo microscopico la sovrapposizione coerente di stati è una cosa molto comune, anzi è la base del funzionamento dei computer quantistici. In poche parole, anche se sono parole che non chiariscono niente, un qubit si trova in una sovrapposizione di stati se si trova contemporaneamente nello stato 0 e nello stato 1, con i due stati che hanno pesi diversi nel definire il suo comportamento generale. Matematicamente una sovrapposizione di stati può essere scritta in una maniera relativamente semplice. Prendo lo stato 0 e, non preoccupatevi di quelle strane parentesi, è una notazione dovuta ad Dirac. Sta a indicare che quello che metto in quelle parentesi è uno stato quantomeccanico e non uno stato classico. Dicevo, prendiamo lo stato 0, prendiamo lo stato 1, moltiplichiamoli per un opportuno coefficiente che chiameremo alfa e beta rispettivamente e sommiamoli tra di loro. Questa sarà la descrizione dello stato quantomeccanico ψ del mio qubit e userò la lettera greca ψ perché in meccanica quantistica è abitudine fare così per indicare uno stato quantomeccanico generico. Chi tra voi ha un po' di dimestichezza con l'algebra lineare riconoscerà in questa scrittura una semplice combinazione lineare di due vettori 0 e 1, che poi sono la base di un sistema di riferimento con coordinate alfa e beta, cioè una semplice combinazione lineare. Cioè ψ alla fine è un vettore generico in questo spazio, che però è piuttosto complicato perché alfa e beta, questo non ve l'ho ancora detto, sono numeri complessi e quindi non è una cosa così banale da immaginarsi, non è una cosa che possiamo disegnare su un foglio di carta con facilità. Attenzione, dobbiamo subito togliere di mezzo un possibile equivoco relativo alla sovrapposizione di stati. La sovrapposizione di stati non è un ulteriore stato ben definito in cui può trovarsi il qubit. Se così fosse non la chiamerei sovrapposizione coerente di stati, la chiamerei stato 2 e il mio sistema, avendo a disposizione lo stato 0, lo stato 1 e lo stato 2, sarebbe un sistema maternario. Probabilmente un modo simpatico per farsi un'idea di che cosa sia la sovrapposizione di stati e ricordare quelle letterine che scrivevamo alle bambine carine, alle elementari. Vuoi essere la mia fidanzatina? Sì. No. Forse. È in quel forse, in quella indecisione che si nasconde la sovrapposizione coerente di stati. ossia il qubit che non è nello stato 0, non è nello stato 1, ma è in tutti e due contemporaneamente. Quindi, adesso che ci penso, un qubit che si trova in una sovrapposizione di stati sta nella friendzone. Potersi trovare in una sovrapposizione coerente di stati dà una grande potenza di calcolo al computer quantistico. Classicamente io ho uno o più registri di bit che si trovano in uno stato ben definito, li faccio passare attraverso diversi calcoli, dopo ognuno dei quali si continuano a trovare in uno stato ben definito, magari diverso dal precedente, fino ad arrivare all'output, all'ultimo valore, che è ben definito. Pertanto, dopo ogni calcolo, il mio registro si troverà in una delle due alla n possibili combinazioni di cui avevamo parlato nel video scorso. Invece, in un computer quantistico, il mio registro dopo ogni calcolo si troverà in tutte le due alla n possibili combinazioni. O quantomeno si troverà in un gran numero di combinazioni contemporaneamente. E questo permette al computer quantistico di esplorare diverse strade e trovare la migliore, trovare la soluzione migliore da passare al calcolo successivo, il tutto istantaneamente. E parlando di calcoli, le porte logiche di un computer quantistico sono comunque una manciata, sono molto, molto poche, così come erano poche quelle del computer classico. Per esempio, il computer della IBM dà a disposizione appena 9 porte logiche, 9 calcoli di base con i quali è possibile utilizzare il computer quantistico. La differenza rispetto ai computer classici è che in quel caso sono decenni che noi utilizziamo quella tecnologia e quindi abbiamo ormai standardizzato le porte da utilizzare. Nel computer quantistici questo è un lavoro ancora in itinere. Per esempio potreste notare una differenza tra le porte logiche implementate da IBM e le porte logiche in un documento come quello che vi linko qua sotto in descrizione. Naturalmente, nell'ottica di far diventare i computer quantistici qualcosa di diffuso, sarà necessario scegliere, fare una scelta, fare una standardizzazione delle porte da utilizzare. E cosa succede quando poi misuriamo il nostro registro, quando guardiamo quanto valgono i nostri qubit? Ecco, qui abbiamo un'altra sorpresa, perché nei qubit classici noi ottenevamo un unico valore, sempre lo stesso, a meno che il computer non fosse rotto. In questo caso, invece, la sovrapposizione di stati fa sì che io ottenga il valore 0 o il valore 1 con una certa probabilità. Probabilità che è legata a quei coefficienti alfa e beta di cui avevamo parlato prima. In particolare i loro moduli al quadrato rappresentano la probabilità che, andando a misurare quello specifico qubit, noi otterremo lo stato 0 per alfa e lo stato 1 per beta. Questa può sembrare una complicazione inutile. Io dovrò fare medie, dovrò fare calcoli ulteriori per trovare la soluzione completa del mio problema. Ma in realtà, come vedremo però nel prossimo video, le cose non stanno proprio così. Prima poi vi ho detto che il registro può trovarsi al massimo nei due alla n possibili stati. Perché, visto che stiamo parlando di sovrapposizione coerente di stati, non si trova sempre in tutti i due alla n stati? Beh, ci sono almeno due motivi. Quello più semplice è che alcuni qubit potrebbero essere fissati in uno stato ben definito. Non è obbligatorio mettere tutti i qubit di un registro in una sovrapposizione. Magari quel bit mi serve come controllo. Ho la necessità che valga sempre 0 o sempre 1. E quindi questo riduce il numero di combinazioni possibili. Volendo fare un esempio, se io avessi un registro costituito da 3 qubit dovrei avere 8 combinazioni, 2 alla terza. Ma se il primo qubit, per motivi miei, deve valere sempre 1, è ovvio che il numero di combinazioni si riduce semplicemente a 4. Ma c'è un altro motivo che può limitare il numero di combinazioni possibili e prende il nome di entanglement quantistico. Se la sovrapposizione coerente di stati è qualcosa di strampalato, l'entanglement quantistico è qualcosa di spaventoso. Einstein la definì spooky action at a distance, oscura, misteriosa azione a distanza. Ma in cosa consiste nel nostro caso specifico? Io posso prendere 2 qubit, farli interagire in maniera opportuna e fare in modo che ciò che succede a uno influisca su ciò che succede all'altro. Per esempio posso fare in modo che se uno dei due, quando viene misurato, mi restituisce 0, anche l'altro, quando verrà misurato, mi restituirà 0. Questo può sembrare qualcosa di non particolarmente straordinario, ma il motivo è che noi continuiamo a ostinarci a pensare in modo classico. Quando io vi dico che faccio interagire 2 qubit, voi istintivamente pensate che loro si stiano mettendo d'accordo, che decidano di valere entrambi 0, o entrambi 1, o 1 0 e l'altro 1. Ma le cose non stanno così. Quando vi ho detto che un qubit in una sovrapposizione di stati, quando viene osservato, mi restituirà o 0 o 1 con una probabilità che dipende da alfa e da beta, questo continua a valere anche nel caso dell'entanglement. Se io misuro il mio primo qubit, avrò una certa probabilità di trovarlo nello stato 0, una certa probabilità di trovarlo nello stato 1, ma l'altro qubit, quello in entanglement invece, sarà vincolato alla mia prima osservazione. E la cosa sconvolgente, ciò che aveva sconvolto Einstein, è che la comunicazione tra i due qubit avviene in maniera istantanea, non importa quanto sono lontani. Appena io misuro il primo, l'altro sa istantaneamente come dovrà comportarsi. E questo è molto, molto strano. Quindi in questo video abbiamo imparato che i qubit, i quantum bit, sono molto diversi dai bit tradizionali. Anche se quando vengono osservati possono avere solamente due valori, che chiameremo 0 e 1, quando non vengono osservati possono trovarsi in una sovrapposizione di stati. Può esserci l'entanglement tra due qubit, insomma tutta una serie di condizioni molto, molto strane che i bit classici non possono replicare. E queste condizioni saranno alla base della potenza di calcolo e delle alternative di calcolo di un computer quantistico, che però vedremo nel prossimo video. Io nel frattempo vi ringrazio per la visualizzazione e mi raccomando, siate curiosi, la fisica è la dove non ve l'aspettate.